Virginia Villa, direttore generale della Fondazione Museo del Violino Stradivari di Cremona. Oggi celebriamo qui a Bologna Giuseppe Fiorini, grande liutaio bolognese, che ha molto a che fare anche con il Museo di Cremona. Perché? Il Museo del Violino, che è nuovo e aperto da tre anni, in realtà ha avuto la fortuna di aver incomodato tutta la collezione dei cimeli stradivariani che era stata donata alla città di Cremona, che è stata al Museo Civico per tantissimi anni, e che ora è esposta nel nostro museo. C'è una bellissima sezione, proprio la sezione dedicata a Stradivari, evidente che per noi ovviamente è la sezione più importante del museo, nella quale sono conservati tutti i reperti, cioè i disegni, i modelli, le forme, e anche lo strumento di Fiorini, che è al nostro museo. C'è un video con la storia del maestro Fiorini, e quindi tutto il pubblico che arriva sicuramente viene messo a contatto non soltanto con gli oggetti, che per qualcuno possono anche non parlare in maniera così semplice, ma con tutta questa storia. Questo è un po' l'approccio che il museo ha seguito, cioè cercare di interessare le persone in maniera semplice. Questo è un museo nel quale noi dobbiamo raccontare cinque secoli di liuteria, e la parte dedicata a Fiorini e ai modelli è fondamentale, perché si parte da lì. Abbiamo poi molti visitatori di settore, cioè i utai di tutto il mondo frequentano molto il museo, e quindi questa è una sezione importantissima per il loro lavoro. Fonte di ispirazione, di confronto, si sta pubblicando adesso il catalogo generale completo di tutti i reperti stradivariani, quindi di tutti i reperti che sono stati donati a Cremona nel corso del tempo, e la donazione a Fiorini è sicuramente quella principale e posso dire anche, credo, quella di più grande valore. Quindi è un valore storico, ma è anche un valore umano, perché continua nel lavoro di tutti gli utai, che sono non solo cremonesi, non solo bolognesi, non solo italiani, ma sono ragazzi di tutto il mondo che fanno questo mestiere, che è un mestiere che però è fortemente di ispirazione italiana. Quando sentiamo sempre parlare di questa eccellenza italiana, bene, la liuteria è sicuramente un'eccellenza italiana, lo è stata, ma lo è tuttora, e continua proprio nel lavoro dei maestri liutai, che è anche qui a Bologna, è molto vivo, molto presente, ma ci fa sperare bene per il futuro, credo. Dare uno spazio a questi mestieri artigiani è veramente importante.